ciao ragazzi sono gilalfa team e benvenuti in questo mio nuovo video oggi sono qui perché ho un annuncio super importante da farvi ovvero ho aperto un nuovo canale questo non è un canale dedicato ai videogameplay bensì ad un'altra mia passione ovvero il disegno ho intenzione di caricare video di speedpaint ma anche tutorial video quiz insomma cose di questo genere i video saranno commentati in italiano e sottotitolati in inglese come questo che state vedendo ovviamente continuerò a fare anche videogameplay però ultimamente non sono molto attiva perché non mi sento motivata ad ogni modo spero che quest'idea vi piaccia e soprattutto che mi supporterete io vi lascio il link del nuovo canale giù in descrizione e niente magari passate iscrivetevi se vi piace un bacione alla prossima